ciao a tutti nesini siamo qui in un nuovo video oggi andremo ad aprire nella prima parte del video questo qua questa nuova tipologia di blind box che è di ralph spaccatutto della seconda del secondo film praticamente che ancora non è uscito se non sbaglio infatti in america mi pare che hanno detto che esce il prossimo mese poi non so quando posterò questo video che è dei fanco mystery minis e l'ho preso sul sito emp quindi lo trovate lì se vi interessa quindi iniziamo subito e vediamo intanto questa blind box allora questo è l'altro lato della blind box in cui abbiamo felix e ralph e qui abbiamo sull'altro lato questo coniglio ciccione che mangia frittelle e quest'altra qui allora siccome appunto non è ancora uscito il film io ancora non so i nomi dei vari personaggi però ovviamente appena uscirà io me lo andrò a vedere sono tutti uno su dodici quindi non c'è una rarità particolare potete trovare tutti i personaggi comprando un'intera box e gli unici appunto che conosco sono ralph vanellope felix e gli altri non li conosco sono molto molto carini comunque la maggior parte quelli che mi piacerebbe meno trovare sono questi tre spero di trovare appunto uno degli altri anche se alcuni personaggi appunto non li conosco tipo lei però mi sembra molto carina lei il coniglio pure molto carino e anche questo mi piace gli altri appunto ovviamente mi piacciono i miei preferiti sarebbero loro due in queste versioni qua soprattutto perché abbiamo ralph che tiene in mano la sua medaglia di dolci insomma fatta da vanellope che dice sei il mio eroe e questo mi piacerebbe molto poi c'è lei col topolino lei in versione normale lui in versione normale e poi felix e gli altri personaggi poi appena usciranno appunto me lo andrò a vedere perché il primo mi è piaciuto da morire è stato uno dei cartoni che mi ha stupito maggiormente è veramente stato molto molto carino ditemi se è piaciuto anche a voi e niente valellope sarebbe appunto la mia preferita ma anche ralph soprattutto appunto con la sua medaglietta mi piacerebbe tanto e niente non l'ho potuto scegliere quindi andiamo a vedere che cosa trovo e niente se trovo uno degli altri personaggi purtroppo non saprò ancora i nomi perciò li andrò a scoprire poi più in avanti quando vedrò il film andiamo a vedere come al solito io adoro i misteri minis allora provo a sentire a tastare che cos'è però non riesco a capire cosa sia quindi andiamo ad aprirla non ci credo che bello ho trovato vanellope no vabbè non ci posso credere che carino mi sembrava di sentire una coda però non avevo idea e poi sbattendo un po la scatola mi sembrava molto pesante quindi speravo in ralph però vanellope che spettacolo era proprio quella che speravo di più avevo scommesso con il mio ragazzo su quello che mi sarebbe arrivato e lui aveva detto vanellope io ho detto magari e quindi aveva proprio ragione sono troppo contenta ho trovato la versione normale di vanellope che sorride ed è vediamola subito questa qua è veramente adorabile e poi c'era quest'altra appunto col topolino e vabbè molto molto carina sicuramente è quella che speravo di trovare insomma una delle due versioni di vanellope oppure di ralph erano i miei preferiti quindi top e appena era uscito appunto io volevo tantissimo una cosa di vanellope quindi sono troppo contenta di aver trovato il mystery minis a fortuna tra l'altro perché questo è uno su 12 quindi potevo trovare uno qualsiasi di loro quindi sono troppo troppo felice quindi ditemi se vi piace e cosa avreste voluto trovare voi lei è troppo carina guardate assolutamente quanto è bella e quante sono le sue caramelline qua nei capelli poi c'è appunto questo fiocco con la liquirizia rossa è veramente adorabile vabbè troppo bella sono troppo troppo contenta anche le calze sono diverse come nel film e la sua felpa è troppo troppo carina quindi sono super contenta e la fanco fa sempre delle cose troppo dolci e adorabili ed ora invece andremo ad aprire minecraft bubble mobs questa blind box l'ho trovata da gamestop c'erano anche gli squishy a tema minecraft e questa è la prima serie non so appunto se ne usciranno altri comunque mi ha incuriosito e l'ho presa anche la scatola è molto carina vedete sono tutti lucidi e questi sono quelli che si possono trovare invece in questo lato abbiamo altri artwork eccoli qua e sono hanger perché appunto si possono attaccare sono dei portachiavi questi sono tutti i personaggi che possiamo trovare abbiamo il creeper abbiamo alex steve lo zombie il lupo enderman l'ocelot il ragno lo scheletro con l'arco poi la pecora rossa e qua c'era un chase che onestamente non so quale mob possa essere sinceramente sto provando ad indovinare dalla dalla sagoma ma non mi viene in mente quindi se vi viene in mente quale possa essere ditemelo nei commenti questo è il più raro è uno su 60 e niente per ora non mi viene in mente chi potrebbe essere e niente questo appunto l'ho preso da gamestop per il prezzo di circa 7 euro mi pare 750 non è bassissimo come prezzo però questi qua costano così più o meno mentre i 6 euro erano gli squishy quelli li potevate scegliere non erano blind allora io questo l'ho già aperto in giro perché ero troppo curiosa però arriva in questa bustina qua con scritto minecraft official molto carina e andiamo a vedere chi ho trovato ho trovato il ragno non so perché ma me lo sentivo che l'avrei trovato e comunque molto carino ha il suo portachiavi rosso che è intonato con i suoi occhi e è fatto veramente benissimo è tutto pixelato anche con l'ombreggiatura è veramente fatto molto molto bene da lontano sembra proprio il ragno di minecraft anche le zampette sono fatte benissimo questi sono i mobs quindi appunto i come possiamo dire i nemici ecco e questo è bubble head appunto perché si muove vedete la testa è bubble come i funko pop è molto carino veramente molto 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 carino quindi per questa puntata è tutto io adoro entrambe le cose sono troppo carine lei sono super felice di averla trovata e ora mi andrò subito a rivedere il cartone il primo ovviamente il primo film perché niente è troppo bello e mi andrò a fare quattro lacrimucce e niente ditemi se queste due blind box vi sono piaciute io le adoro sono anche intonati come colori e noi ci vediamo in un prossimo video se vi è piaciuto mi raccomando pollici in su iscrivetevi al canale commentate perché se no youtube non vi manda più le notifiche quindi mi raccomando commentate ogni tanto e ditemi quali sono altre cose che vorreste vedere nei prossimi video noi ci vediamo in un prossimo video vi mando un bacione e alla prossima ciao